Poi Credo di non aver mai sfruttato quando ho giocato la nuova senza novità il triple blink Sì puoi avere 3 blink quando sei tipo vicino al tuo alleato Non lo so sono andato qui c'è un davanti c'è un po' di gente davanti a me Mi ero dimenticato che con la nurse gli fai urlare Sto un attimo sluggando io perché ho un po' di gente davanti C'è un Quentin vicino tipo a un cestino Eccolo lì lo vedi Vedo una Chi cazzo è questa una fango Una mag Volevi eh T'ho visto Beh però siamo già messi molto bene Ci sono persone qua alla nostra destra Ce ne sono 3 o 4 se vuoi Ho fatto il save ora Oddio questa è la skin quella di Fang nuova La cosa bella della nurse in questo modo è che letteralmente quasi ogni blink vai a colpo sicuro perché trovi qualcuno Giocate vicini insieme e stravincete Davvero Io trovo molto più value non stare assieme in questa modalità in realtà E' vero che magari fai qualche chase prima però finisci i che fanno i gen Cioè comunque cesarne uno massimo due alla volta non è molto conveniente Uh grabbino Interpondiamo di te che i killer stanno vicini così avete i buff Sì ma i buff che abbiamo comunque Cioè Sì Io non ho terror radius E ho un blink in più Però Perdi davvero tanto di pressione secondo me E ti cesi il triplo prima non cambia chissà che Sì Sì comunque i great nurse secondo me sono i migliori così Mi sa che ti ho un po' di bloccato vero? Eh non è arrivato Eh forse un carino Ah prendo io prendo io Guarda vai vai Troppo bing crazy Non chi sta giocando con Kailina Su Myers che ne pensi di Nemez come perte dell'Hony Fa abbastanza cacare Niente Swingo C'è un'altra qua Davanti a me c'è una fang Sono suona Maggie Ho sbaglio Stato rinfrescando Sì un pochettino sì La chiudo di qua Fengs Continui Sì Però puoi gestire tutta la sessione con i pallet in test Per farmare a giocare col tuo cibo Sì però Comunque no Non ti conviene lo stesso Non devi per forza giocare a giocare col tuo cibo Don Myers E giocare quel perk per giocare col tuo cibo È un po' uno spreco secondo me Minchia quanta cazzo di speed ti hai preso? Ci sono io qua a chiuderli anche se vuoi eh Sì Questi sono un pregame tutti qua Qui c'è una fang suona da me Oh Ma ingabbiava Lo staccio c'era qualcuno L'ho visto nel mentre Sì è andato a destra Eccolo Perfetto Molto più figo comunque giocare a kill Nesta modalità Da più ho visto stracce Ok Ah questo lo chiudo io No non è vero perché è un altro pallet Sì Sì come l'hanno detto È abbastanza sulla mia mera presenza Da me c'è un po' di gente Almeno tre Eh lì sì Lì sono due o tre in quella zona Ah perché c'è anche un save È qualcuno a bordo mappa Un attimo che lo cerco Ho visto Li avete distrutti i porezzi Li abbiamo asfaltati effettivamente Uh bello Allora mettere l'altra parte Sbagliati Ah sto sbagliando i blink Ebbè che l'ho presa io Abbiamo finito Già la botla Ma come ne ero accorta Guarda intanto shock Shock sarà infatti Bacini delle 0.50 Ah signora Elix Un'altra la trovata io Forse manca main Beh vuol dire che almeno una La dovremmo uscire a prendere Kill Loro sono al lato destra Sono praticamente davanti alla porta Ok uno è uscito L'ultimo è davanti alla porta mi sa Se l'ho io davanti Me l'ho perso Ah no no che è tirato di qua È andando verso shock L'unico problema Nurs col vreddo è che è un po' lenta Cazzo GG GG Piedini per talizzare Eh Ziggs Mamma mia questo gatto Va bene Buon game Grazie del game Easy Grazie a te Ciao Buona serata Perché ti ha dato un M1 Volevo colpirti C'è un bel po' di gente davanti a me Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vai 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 Massacriamolo Ma l'hai rubata così però Non vale Maledetto C'è gente qui Al centro Da me Arrivo Va vedi Riesci a il tarlo Vai 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 Mi fido Ma questa è mia però Non ci provare Ci ho visto eh Maledetto Qui da me ci sono un po' di persone Arrivo Ma in realtà è solo uno Però vabbè Oh invece no Ma io c'è una fanga anche da me qua poi Beh la blocco di qua Vai pigliata Tanto spiego che lo vuoi fare Guarda qua Guarda qua Guarda qua Guarda qua La fang La meg Fang Ada Meg Che cazzo è Non lo so No l'hai messata No C'è mia però Adesso non ha nessun bonus A starmi vicino Vero Sono detectable Eh no No dico però Tu non dai Non hai bonus effettivi A parte il mio Dico Lanteress è l'unica Che non prende bonus A star vicino Effettivamente Il bonus è se stessa C'è uno Due Dai è riuscito a saltare Esce dalla porta Quella 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 Senta entrare in B qua Cazzo Vecca pure lei Esa Qui c'è un po' di gente Calcio quel gen se riesci poi Sono tutti quanti qua Qua c'è o c'è allora Nice E' bella questa cosa Del doppio killer Perché ti mette anche Il gioco di squadra In questa maniera Si Che è divertente Comunque Cercare di Qua ce ne sono un paio Li vedi Vieni qua Li vedo Ho preso un pallet Un ciclieto Sono ancora sette gente Tra l'altro Qui a destra Sembra che ci sia gente Si stanno anche Curandoli in fondo Mi sa che mi becco Uno stun in faccia No invece Gerry Dove si stagga da pc Dai lo fa automaticamente Questa modalità Dunque r mi pare Nel caso Mi pare Sai quando fai le cose In automatico E non ti ricordi i tasti That's me Oh si stanno curando qua Poverina Tannellata Sono dietro il tipo Oh si stanno curati qua Ma sono nato Pizze Vice Sì Dove sono di desteltarmi In realtà Non so se si può uncinare Da steltato In questa modalità Guarda qua Guarda qua che si stanno curando Stanno tirando giù C'è Minchia poverina Tanto la appendo Buono Dovrei raggiungerla Senza What the Minchia Che sfida ha preso Fa ancora lo sprint burst Quello davanti a me Ah si Poi 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 What Caccia Eeeh E che ho giocato il gioco C'è la snake È cresciuta la lobby Ok Stavo dicendo E niente E niente Jerry Faccio un'altra No sei quel cazzo Non mi metto a fare altri 20 minuti di cola Mi spiace La fareste anche davvero a mente Se vuoi ti ridò i punti Solo perché ha crashato Vabbè Non so ne ho manezza di punti Vabbè va bene Ah ok Allora non te li do Bas No dammeli dammeli Se c'è un mod che riesce a darteli Però Adesso andiamo a fare un po' di normali ragazzi Basta 2 di 8 Grazie Jerry del game Ti auguro un buon prossimo Di serata Ciao 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 ciao